Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha assunto la decisione di partecipare a questo grande esercizio di valutazione nazionale della ricerca, è un esercizio che coinvolge tutte le università pubbliche italiane e tutti gli enti di ricerca cosiddetti vigilati dal Ministero e da altri enti che desiderano parteciparci volontariamente, tra i quali la Fondazione. È un esercizio che copre il settennio dal 2004 al 2010, è la seconda volta che si svolge in Italia ed è fortemente analogo ad altri esercizi nazionali che si svolgono nel Regno Unito e in Australia. Qual è l'obiettivo di questo esercizio di valutazione? L'obiettivo è quello di fare il punto sullo stato di salute della ricerca a livello nazionale, diviso tuttavia per aree disciplinari, cercando di capire qual è il livello della qualità, della competitività della ricerca italiana, non solo dal punto di vista della produttività tradizionale, quindi attraverso le solite pubblicazioni sulle riviste più o meno prestigiose, ma anche nella sua capacità di avere un impatto socio-economico diretto. Quanto è grande questo esercizio di valutazione? Si può quantificare con qualche numero, sono stati pubblicati recentemente i primi dati sulla partecipazione a questo esercizio, si parla di oltre 184 mila prodotti della ricerca, quindi articoli, libretti, da parte di 68 mila contributori. Questi verranno vagliati dai 14 comitati di valutazione, con i 450 membri dei comitati e verranno poi rimandati per un giudizio di merito, ove necessario, a un numero che si aggira intorno ai 10 mila revisori internazionali. La fondazione ha partecipato all'esercizio di valutazione con due suoi centri? Sì, ha partecipato col centro di materiali e microsistemi, con centro di tecnologia e delle informazioni, sono i due centri più grandi, sono i centri anche di maggiore tradizione da un certo punto di vista e sono i centri che coprono grosso modo i tre quarti delle risorse complessive della fondazione. Il processo di raccolta e di documentazione è durato diversi anni, come avete raggiunto questo risultato e parliamo un po' di numeri, in che totale di lavori sono stati presentati? L'esercizio di valutazione copre il settenne 2004-2010, quindi noi dobbiamo immaginarci di dover documentare tutta la produzione di questo periodo, non solo con i dati descrittivi, ma anche con un insieme di altre informazioni ancillari che venivano richieste per la partecipazione. Noi siamo partiti da circa 2.200 prodotti elegibili complessivamente, poi con una serie di affinamenti successivi sulla base della qualità che noi abbiamo stimato, grazie anche i criteri di valutazione che l'Ampura aveva pubblicato, siamo scesi gradualmente e siamo arrivati ai 617 prodotti con i quali ci siamo affacciati alla valutazione. Per quel che riguarda i risultati della terza missione, che cos'è e quali dati sono emersi? Con terza missione è il nuovo modo di dire l'impatto socio-economico diretto, quindi dobbiamo immaginarci tutta la capacità che gli enti di ricerca hanno o dovrebbero avere nell'avere un impatto diretto sulla società attraverso tipicamente le forme di nuova imprenditorialità, quindi possiamo immaginarci gli spin-off o le cosiddette start-up, oppure la capacità di aggregare consorzi di ricerca o la brevettazione di idee e cose di questo genere. Abbiamo portato a termine quello che burocraticamente viene chiamato l'ultimo adempimento, che è la stesura del rapporto di autovalutazione. Adesso l'Ambur riceve tutto il materiale, i comitati si riuniscono, svolgono il loro lavoro e metteranno una serie di rapporti sui dipartimenti attesi per la primavera, separati per dipartimento e per aree disciplinari. Dopodiché il rapporto conclusivo, sarà un tomo piuttosto spesso che riguarderà tutto il sistema della ricerca nazionale e raccoglierà in una forma, in parte discorsiva, in grande parte tabellare, numerica, i riscontri di questa valutazione. L'esercizio di valutazione dedicava una specifica attenzione alla capacità dell'organizzazione, dell'ente di ricerca di attrarre finanziamenti dall'esterno, tipicamente dalle agenzie europee o nazionali o anche internazionali. Noi siamo riusciti ad accreditarci nel settennio 73 progetti europei e anche un certo numero di progetti finanziati direttamente, diciamo così, commesse di ricerca dal mondo privato. Queste qua in particolare hanno costituito un patrimonio di finanziamento che ne abbiamo ricevuto dal mondo privato e lo possiamo più o meno stimare nell'ordine di 14 milioni di Euro nel settennio. Grazie. Grazie.